La Chiesa di Galatina è già una consuetudine di tutti i tre anni insieme al Comune di Galatina, insieme al Comune Pestano, anche con la partizia del Comune di Soletto, che serve per affidare l'attenzione sia del territorio ma anche del territorio, in questo periodo, in questa primavera del nostro salento, sulle bellezze artistiche di Galatina, di Soletto, in particolare sui monumenti orsignali, la Chiesa di Santa Caterina e Santa Geratina, la Chiesa di Santo Stefano Saleto e l'Algunga. Proprio per questo, a parte del Buonesco, noi midiamo la valorizzazione di questi beni artistici e culturali. Grazie a tutti.